Tre giorni di eventi all'interno del Castello di Araconigi, uno delle roccaforti della cultura della provincia di Cuneo, sicuramente uno dei beni più conosciuti nel nostro territorio a livello culturale, che viene arricchito in questi giorni di tre grandi eventi. Oggi andremo a scoprire quelli che si chiamano i grandi artisti che andranno a, dal 12 al 15 settembre, andranno a animare il Castello di Araconigi ancora una volta all'insegna della promozione turistica del nostro territorio. Io sono emozionato, sono emozionato perché la fusione della cultura fatta in modo, adesso lo dico, poi mi tireranno le orecchie, un po' glamour, con personaggi che in qualche modo sconfinano in quello che è lo spettacolo, anche un po' il gossip, penso sia una delle chiavi di lettura, uno per avvicinare al mondo della cultura il grande pubblico e due per utilizzare, e qui voglio veramente ringraziare tantissimo quello che è la direzione regionale, il polo museale del Piemonte e la direttrice Alessandra Giovannini, che oggi ci consentono di dire, guarda, facciamo una cosa, facciamo cultura, facciamo crema, facciamo uno dei posti più belli, indubbiamente del Piemonte, vorrei dire anche l'Italia. E quindi questo è veramente per un sindaco un po' raggiungere il culmine di quelli che sono gli obiettivi strategici che nel tempo avevamo su questa, che è la proiezione del bene più bello e più prezioso che noi abbiamo. Sono molto molto contenta di essere qui oggi a parlarvi insieme al sindaco del comune di Racconigi, Valerio Derda, e Maurizio Liberti, e agli altri che interverranno insieme a me la conferenza stampa di questa bella iniziativa, Libri a Castello. È un'iniziativa, devo dire, su cui ci siamo confrontati sin dalle prime battute, sia col sindaco sia con Maurizio, e che da subito ho accolto con grande entusiasmo, devo dire, perché diciamo che mi piace molto pensare che il Castello ospiti la prima edizione di questo festival letterario di cui parleremo oggi. Diceva prima il sindaco siamo molto contenti della collaborazione col Castello, devo dire che io in prima persona sto cercando di impegnarmi il più possibile a portare, non solo a far venire turisti al Castello, quindi a rafforzare l'idea e anche il ruolo del Castello di Racconigi come meta turistica, ma ci tengo molto a dirlo anche a voi, a far tornare le persone che vivono sui territori al Castello e quindi a far percepire il Castello e a farlo vivere anche come luogo, come parte della vita quotidiana delle persone. Il progetto di Libri a Castello avrà questi ospiti a Racconigi nel cortile del Castello, come dice la parola, ore 21, lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 settembre, ore 21, ingresso gratuito, l'11 settembre Marco Bianchi parlerà del suo nuovo libro con Attilio Cileghini, giornalista della pressa. Martedì 12, Sabina Guzzanti, dialoga con Simone De Ciero, giornalista del Corriere della Sera, martedì l'ho detto sì, mercoledì Chiara Francini, anche lei con Simone De Ciero, Corriere della Sera. Sono stato chiamato, messo all'ordine perché da vecchio militare, subito signor sì, come dicevo prima, riappropriarci un po' anche del Castello, perché effettivamente è una location eccezionale, è una location che anche i cittadini dovrebbero essere molto molto più presenti. Quando me l'ha chiesto sono stato contentissimo perché io sono un fautore della parte storica di Racconigi e lo supporterò anche economicamente perché è un evento così, però insieme ad altri sponsor, come l'amico che dopo interesserete, riusciremo a fare proprio una bella cosa. Abbiamo valutato questa proposta che ci è arrivata dal sindaco, dal comune, insomma questo progetto molto interessante. Noi esistiamo anche per questo, siamo una banca del territorio, dobbiamo promuovere il territorio, non solo sostenerlo economicamente, che è un ruolo importante, che facciamo con altre banche come noi e con altri istituti più grandi, ma cercare anche di promuovere la cultura, gli aspetti morali e anche sociali di quello che è il nostro territorio, che è comunque un territorio che va a parte della provincia di Cuneo, da Calasco e poi è arrivato in provincia di Torino, già da diversi anni e anche su Genova, quindi insomma un territorio molto ampio, evidentemente siamo una banca non grandissima, quindi non abbiamo disponibilità illimitate, cerchiamo di contribuire con quello che possiamo a queste iniziative. Grazie.